Il momento è un po' qua prima di cominciare, immagino un momento prima di inizio della Ticca la classica espressione un po' da lutto, un po' da finta concentrazione prima della Ticca o vera concentrazione Tutti i Ticca escono qua alla massima potente La Ticca usa che si mangia la pizza mentre noi stiamo lavorando Tramezzino Scusa ho sbagliato, è arrivato, è arrivato, è arrivato Qui è No Qui è l'altra Vabbè, pure se c'è stato non è che il problema, però diciamo che normalmente non ce l'avevamo messo Non possono toglierlo Io la conosco una che potrebbe fare al caso loro Maretto, pure la vescica, che vuole più? Che non è comprare da mangiare? Non possiamo portare pesi Deve metterlo, potresti pure fidano Ma guarda, guarda, guarda Voi siete responsabili Guarda, la vitella No, scusa Sì Sì Si è incazzato Antonio Perché? Non lo so Cosa è la bomba? Il microfono è solo Si sta bene, si sta bene, e a meno non piove, c'è il sole, hanno sbagliato tutto, hanno sbagliato tutte le previsioni Noi con i mostri abbiamo fatto 4 pezzi in 4 ore, quindi un'ora a pezzo, non è un disco Filmiamo il braccio, questo è un caso rarissimo di dermatite, ma ti sei scottato con il ferro d'ostino No, no, è una puntura È una puntura, no, hai detto che l'hai smesso? L'arancino d'amarancia L'arancino, con che ripieno ha? Che poi si direbbe arancina, no? Arancina Femmina, è femmina, l'arancina è femmina Pura lupare Pura montagna Montagna E allora perché l'osticchio, l'osticchio si dice? L'osticchio è l'unico posto che è mascolo Quello è mascolo, invece la minchia che è mascolo e femmina È tutto invertito Ma poi bisognerebbe andare a indagare Ma che spione E però non posso, essendo il re minore, non posso mettere il maggiore del re Però col fa sta malissimo È per quello che sono fregata Perché sarebbe bello così Non state a parlare della demo No No perché se no ce ne frega Abbiamo trovato casa Ma cazzi nostri Ma vuole rifare anche lui? No, lui no Deve rifarlo anche tu? Ma devi risuonarlo anche tu? Devi risuonarlo anche tu? Ma perché si scorda? Speriamo che mi ricordo quello che devono suonare in libia Però non so se adesso lo dovete risuonare tutto Perché prima l'avete ripartito da là Che ridi Che ridi Come va già zappa Si sente Si sente È ansiosa Fabiano è come Mina comunque Buona la prima Porco giuda, non è sbaglia una Così dicevano di Mina No, no, è così, ti assicuro Eh, ti può tagliare qualche misurazione Non si può, non si potrebbe Li teniamo fino Scusa, io l'ho messa in un posto La segra, ma perché? Così ve lo mette Certo, per dove esce il vento? Per prendere la mente Lo sentite? Guarda che tu la metti non fa E' l'ultima Femme rebelle Cadate l'ugor Sino brigante Munite d'alba E non ci cercate Scordate Dovrei risentirla perché qualcuna andava bene Qualcuna no Questa no e neanche quella dopo va bene Quindi queste due comunque le devo ripare Eh no, come cazzo la faccio Vabbè, questo fatto, queste due le devo ripare Da prima non la voglio ripare Un po' fuori tempo E poi l'attacco poco più delicato Eh esatto Quindi rimanda dallo stacco Complessivamente però mi sembrava... Mi stiamo mischiando a quella di prima Nell'ultimo c'è stata una piccola accelerazione Diciamo di tenerla Vale, neanche Balcana è ottima Cioè pure Balcana andrebbe rifatta Su qualcuna, su qualunque c'è stata Balcana andrebbe rifatta la società C'è proprio buah E' come se uno si accascia e poi si rialza Si può vendere pure come demo ma è sempre un demo Ma è una cosa diversa insomma Non è che... E' una demo eh E' una demo eh